Ecco se sei un artista cosa puoi imparare da Fedez Ciao io sono Simone Trogo insieme al mio socio ho fondato Musics Marketing il più grande ecosistema oggi in Italia che aiuta gli artisti di qualsiasi genere e categoria a trasformare la propria musica in un business Oggi parliamo di uno dei personaggi più amati e odiati della musica italiana che è Fedez e vediamo alcuni concetti, alcune lezioni, alcune cose positive che si possono prendere che ti piaccia o non ti piaccia del genere l'artista che oggettivamente sono cose che funzionano, vengono fatte bene e da cui si può solo che imparare e voglio partire con questa premessa nel senso che tante volte l'artista soprattutto che non ha la mentalità imprenditoriale che noi da mesi e mesi ormai più di un anno promuoviamo con i nostri contenuti e con i nostri percorsi formativi è il fatto di giudicare l'artista da un punto di vista non marketing e business quindi è che cosa cazzo posso imparare da questo qui che sta facendo bene perché oggettivamente non si può dire che non sta monetizzando la sua musica o che non stia avendo successo e quindi di conseguenza cos'è che posso imparare da quest'artista non mi piace o non mi piace, mi piace o non mi piace lasciamolo a quelli che giudicano il brano tu da imprenditore quando c'è un'azienda che lavora nel tuo stesso settore che spacca i culi fino a prova contraria dovresti dire io non mi identifico con questa cosa ma cos'è che posso copiare o prendere di spunto o devo sicuramente riconoscere che funziona perché qualcosa fino a prova contraria funziona e quindi un primo punto su cui abbiamo già fatto dei contenuti ma che voglio riprendere perché penso che sia uno di quelli in Italia che ripeto può piacere o non piacere ma è un dato di fatto che lo fa bene è il metterci la faccia tantissimi artisti vogliono avere dei fan vogliono essere riconosciuti, vorrebbero diventare degli idoli nel proprio genere ma non si espongono come persone quindi quello che fanno è magari sfruttare anche i canali social magari anche creare dei bei contenuti, dei bei video ma quando si tratta di metterci la faccia, interagire con i fan e fare dei video, fare delle storie, raccontare la propria vita far vedere i momenti belli, i momenti brutti del proprio percorso quindi esporsi con il pubblico senza la paura del giudizio piaccio, non piaccio, mi vergogno, non mi vergogno, cosa diranno i miei amici di me quando magari hai 2000 persone che ti seguono, 1000 persone che ti seguono o 300 persone lui è uno dei personaggi che si espone, dice la sua, ci mette la faccia sempre consapevole che, ed è una seconda cosa molto importante e che dovresti fare anche tu, dovresti ragionarci anche tu la sua comunicazione, la comunicazione di Fedez come di tantissimi altri artisti è polarizzante l'errore più grande che la gente fa è io ho paura del giudizio degli altri e di conseguenza non dico un cazzo perché quello è il discorso, se io ho paura di essere giudicato se dico qualcosa che non va bene a tutti allora non lo dico, ma se non lo dici non piacerai neanche a nessuno mentre lui se ne frega assolutamente il cazzo se gli piaci, se quello che dice piacerà a tutti o meno anzi, sa benissimo che quello che dice a tanti non piacerà e gli creerà dei nemici perché è appunto una comunicazione polarizzante c'è chi lo ama, c'è chi lo odia ma chi se ne frega, tu non devi piacere a tutti il tuo obiettivo d'artista non è piacere a tutti ne abbiamo parlato mille volte basta avere duemila, tremila, quattromila, mille a volte fan, mille persone che ti sostengono che sono disposti a venire a sentirti se fai una data, pagare il tuo merchandising pagare per la tua musica e tutti i modi di cui parliamo sempre per monetizzare e tu sei a posto e tu puoi vivere di musica facendo solo questo quindi è non devi avere paura di fare una comunicazione che sia polarizzante Fedez si espone in tantissimi temi anche al di fuori della musica altro tema importante nel senso che gli artisti, uno dei motivi per cui quelli che hanno creato più fan al mondo quelli che hanno veramente delle coerenti che proprio manco fossero partiti politici, sono seguiti in massa e li adorano, eccetera perché sono persone che si sono esposte perché l'artista ha sempre avuto nella storia tanto anche un ruolo sociale anche un ruolo quasi politico quasi di filosofia di vita quindi è chi seguiva Bob Marley non lo faceva soltanto per la sua musica ma per tutto quello che c'era intorno alla sua figura come per tantissime band storiche come il rock ha portato un cambiamento una ribellione, una rivoluzione che era molto più che musica questa cosa qua nel suo piccolo e tu ancora nel tuo più piccolo dovresti farlo lo fa anche Fedez che si espone che parla dei suoi argomenti e quindi c'è una persona che sposa non soltanto l'artista in quanto persona che fa dei brani ma anche la sua ideologia anche i temi per cui combatte ci sono delle persone che si uniscono a lui questa cosa qua crea empatia non crea empatia semplicemente il tuo brano o la tua canzone crea empatia anche quello che tu comunichi quello in cui credi ma se tu non comunichi se tu non ci metti la faccia se tu hai paura di esporti per il giudizio degli altri sarà molto difficile che tu riesci a emergere ci sono artisti che non hanno bisogno di fare questo ci sono musicisti ci sono tanti DJ che non mettono la faccia nelle storie non fanno video su YouTube non dicono la loro su tantissimi temi quindi significa che fare così è l'unico modo no ci sono anche altri modi c'è gente che ce la fa a prescindere ma sicuramente oggi per quello che ci danno i canali online è uno degli elementi che ti permette di distinguerti è uno degli elementi che ti permette di essere ricordato è uno degli elementi che gli fa dire a cazzo lo seguo perché sposo quel tema fammi sentire anche la sua musica fammi sentire anche la sua canzone quindi è questa cosa qua se ci pensi agli artisti che si espongono anche da questo punto di vista hanno tendenzialmente più fan hanno tendenzialmente un pubblico più legato a loro e questo è un altro tema molto importante che troppi artisti sottovaltano non ci mettono la faccia e non hanno una comunicazione polarizzante e poi arriviamo al punto forse più importante di quello che si può imparare da Fedez è la mentalità imprenditoriale questo vale per tutti gli artisti in realtà di alto livello in Italia ma lui è uno sicuramente di quelli in particolare Fedez è un artista ma è forse ancora prima un imprenditore che cosa significa? che lui non ci mette passione nella sua musica non cerca di veicolare un messaggio? no, certo quindi l'abbiamo detto un milione di volte spero che non dobbiamo ancora cercare di far passare questo concetto cioè il fatto di essere imprenditore della tua musica non va a sminuire nella tua musica né la bellezza dell'arte né tutte ste cagate che pensano quelli che fanno musica non guadagnano un euro però la musica è bellissima quindi è un imprenditore che attraverso la sua musica attraverso una serie di attività va a monetizzare la mentalità imprenditoriale cosa significa? che ti posso assicurare che quando per quanto non lo conosco personalmente quando Fedez con tutto il suo team e le persone che intorno realizzano un brano l'ottica non è quanti streams ho fatto quanti views su youtube ho raggiunto ma è quanti soldi mi sono arrivati in azienda quanti soldi ho fatturato attraverso tutto il mondo che si è mosso intorno a quel brano la mentalità è prettamente investo dei soldi ne devono tornare di più è prettamente economica non perché è brutto e cattivo ma è perché è così che funziona l'industria musicale finché ed è la mentalità non dell'emergente ma dell'emergente che non ha capito cosa sta facendo finché la mentalità è speriamo che la canzone l'ascoltano in tanti speriamo di fare tanti views e tanti stream e di andare virali su spotify stiamo freschi perché la mentalità è normale che sia anche quella è normale che è importante cercare di crescere sui canali social avere follower views o stream e cercare di scalare le classifiche spotify eccetera ma la mentalità è focalizzata sul business perché molto semplicemente se tu non riesci a mantenerti con la tua musica tu la musica non la puoi fare perché non avrai tempo di dedicarci perché dovrai fare un altro lavoro perché non hai budget da metterci nei progetti e questa cosa qua è importante è un altro concetto che abbiamo sempre detto ma che ci tengo a ribadire e Fedez ne è sicuramente la riprova è il fatto che è soltanto una questione di approccio imprenditoriale quindi tu dici eh no ma se io io non ho i soldi di Fedez a parte che lui adesso c'è i soldi prima non ce li aveva ma a prescindere da questo non è una questione di soldi perché se tu mi dicessi guarda se avessi 30.000 euro saprei come generarne 100 fidati che ci iscrivi ti troviamo noi 30.000 euro ti troviamo gli investitori e lo facciamo noi cioè se tu hai modo di capire ed è questo il limite che è la grande cazzata le persone dicono ci vogliono i soldi perfetto se avessi i soldi che cosa faresti? gli artisti non lo sanno perché il problema non sono i soldi e che non hanno capito come monetizzare la propria musica quindi è lì che è il problema non sono i soldi perché se tu avessi un progetto di business che funziona con un business plan con una logica con anche ovviamente una percentuale di rischio ma c'è una progettualità in cui tu mi sai dire se investiamo qui entrano di qui i soldi e sono di più se non me lo sai dimostrare non solo non ci metterai soldi nessuno ma non consiglio di metterci soldi neanche a te perché stai andando a tentoni stai andando a caso questo non è sicuramente quello che fa Fedez questo non è sicuramente la mentalità di un imprenditore che opera nel mondo della musica altro concetto importante legato al mondo dell'imprenditoria Fedez è anche uno degli artisti in Italia che in termini di lanci in termini di innovazione ha fatto dei lanci con delle collezioni di vestiti quindi ha detto ok la musica si può monetizzare fino a un certo punto allora creo del merchandising creo delle mie collezioni creo delle partnership che mi permettano di aumentare la monetizzazione non è un artista che si è limitato a dire io faccio l'artista io devo pensare alla musica io del business non me ne frega un cazzo perché tanto c'ho i manager c'ho l'etichetta c'ho... no ha detto alto un secondo io voglio capire come funziona sta cosa ed è arrivato a me la fondo io la cavolo di etichetta e addirittura produco altri quindi non è una persona che si è alimentata a dire faccio l'artista ma senza sminuire il suo fatto di essere artista perché è che ti piaccia o meno in tanti i risultati sono quelli che ci sono e sono oggettivi c'è un sacco di fan ha aperto gli occhi e ha detto alto ma visto che lavoro nell'industria musicale tanto vale capirne qualcosa a livello imprenditoriale quindi sicuramente si è formato ha fatto esperienza avrà sbagliato ma è diventato da uno che faceva l'artista a uno che è un imprenditore nel mondo della musica proprio a 360 gradi perché è arrivato anche a aprire una sua etichetta e quindi anche questo risuardo per farti ragionare una delle persone che in Italia guadagna di più dalla musica facendo l'artista ha ampliato la sua mentalità e lavora a 360 gradi perché una volta che ha capito si è detto cazzo ma tanto vale che me lo faccio io quindi non non c'ho voglia di leggere il libro e scoprire come funziona l'industria musicale perché sbatti e devo stare a casa a produrre a suonare ma è quel tipo di mentalità del cosa cazzo faranno mai le etichette perché io devo sperare che arrivi il manager o l'etichetta o Gesù Cristo a notarmi e facendo cose assurde diventerò famoso no queste cose assurde puoi cercare di capire cosa sono puoi provare a farle tu fino a quando non ti noti qualcuno poi come diciamo sempre in tutti i video potrai migliorare potrai crearti il team Fedez non fa tutto da solo come non fa tutto da solo nessuno dei grandi artisti che ci sono in Italia però l'approccio mentale non è sicuramente quello del io sto a casa e faccio musica e fine altra cosa molto importante che si può imparare da Fedez in cui anche qua sicuramente è una delle persone in Italia che si sta muovendo meglio sicuramente oggi è facilitato anche dalla posizione e da tutto quello che ha creato però se l'ha creato lui quindi va solo che è riconosciuto ecco una cosa che personale sia mia che di Emo perché da questo punto di vista qua la pensiamo allo stesso modo ci sta sul cazzo da morire le persone che non fanno una minchia e criticano le persone che hanno raggiunto degli obiettivi può piacere o non piacere ma se una persona è arrivata in un determinato punto qualcosa da imparare c'è quindi se tutti gli artisti che stanno dicendo sì ma lui sta con Chiara Ferragni sì ma lui adesso c'è i soldi sì ma l'approccio mentale è completamente sbagliato se non ti rendi conto che probabilmente c'è qualche risultato in più qualcosa si può imparare e invece di giustificarti dici cazzo ma effettivamente queste cose qua che Simo in questo video stai elencando io le sto facendo no allora mettiamo che prima sto zitto inizio a farle poi forse dico la mia perché questa cosa qua è molto importante quindi è sempre lo spirito critico del se sono lì ti stanno sul cazzo ci hanno avuto culo ci hanno avuto i soldi quel cazzo che vuoi intanto loro sono lì e tu no e quindi è e non è con un fare da superiore con un fare del quindi cosa posso imparare io per arrivare anche io là visto che posso imparare qualcosa può portarmi a un livello successivo se tu non impari da quelli che hanno già fatto quello che vuoi fare tu ma sai col fare critico dubbioso scettico e buonanotte ed è purtroppo la mentalità che hanno la maggior parte degli artisti in Italia che sanno soltanto criticare dire no ma no ma i maneskin ma no i maneskin cosa che hai 300 follower e non sai cosa stai facendo questa cosa qua è proprio un approccio completamente sbagliato dicevo che è un'altra cosa importantissima da cui si può solo che imparare da quello che fa Fedez e lo fa sia in ambito musicale sia per tutti gli altri business anche come influencer che porta avanti sono le collaborazioni Fedez se lo segui e se non lo segui seguilo anche altro concetto importante ne abbiamo parlato in altri video no ma a me non mi piace non ti deve piacere devi imparare devi prendere spunto devi capire che cosa fa giusto da cosa perché se ha dei risultati qualcosa giusto sta facendo e quindi gli artisti che hanno successo del tuo genere soprattutto ma anche non del tuo genere puoi prendere spunti vanno seguiti per capire che cosa si può imparare che innovazioni ci sono di che cosa parlano chi frequentano perché fanno determinate cose come mai fanno determinate storie cosa cambiano nella comunicazione questo è l'occhio critico di un artista imprenditore che guarda la concorrenza chiamiamola così con occhio costruttivo noi no io non lo seguo perché mi sta sul cazzo sbagliato quindi è lui collabora tantissimo ogni suo tendenzialmente tutte le canzoni che sono uscite negli ultimi anni sono in collaborazione con tanti altri artisti affermati perché perché non è capace di farsi brand da solo no perché semplicemente collaborare con altre persone significa avere più visibilità significa avere più porte aperte significa che non è soltanto la collaborazione non è soltanto quello che vede il pubblico finale questa cosa qua è importante perché tante volte è ha collaborato facciamo un esempio stupido rovazzi ha fatto la collaborazione con gianni morandi ha fatto la canzone figo perché è uscita la canzone di gianni morandi e rovazzi no il ragionamento è ma conoscendo gianni morandi che contatti gli si sono aperti a rovazzi che collaborazioni ci sono che amicizia ha instaurato che gli possono essere nella sua carriera musicale perché il mondo della musica non è soltanto la canzone che esce su youtube e spotify finché non capisci sta cosa qua non ce la farai mai nella tua carriera è tutto quello che c'è dietro è quali sono le persone che contano quali sono le persone che ci mettono i soldi quali sono le aziende che rapporti c'ha gianni morandi e con chi che possono tornare utili per la mia carriera e quindi è ovviamente tu dici eh cazzo ma io sono parto da zero faccio il musicista e con chi cazzo vuoi che collaboro grazie al cazzo che se collaboro con grandi artisti a livello nazionale spacco e mi si aumenta il pubblico vero ma tu puoi fare la stessa cosa nel piccolo quindi è perché non inizi a ragionare su collaborazioni perché non stai contattando altri artisti che sposano il tuo progetto perché non stai cercando di crearti un network come diciamo sempre di relazioni e di elevarlo sempre di più intorno a te che conta spesso molto di più della tua musica perché un altro ragionamento del cazzo che fanno la maggior parte degli artisti è eh ma Fedez non sa neanche cantare pensa pure tu sai cantare lui no secondo te però intanto lui è qua e tu sei qui a guardare il mio video c'è qualcosa che stai sbagliando quindi è se non ti piace un determinato artista e secondo te fa cagare da pure successo seguilo ancora di più perché vuol dire che c'è ancora più da imparare da un punto di vista di marketing comunicazioni e scelte strategiche e di relazioni quindi è ripeto si può imparare veramente tanto è una delle persone che un altro grande pregio oltre a tutti quelli che abbiamo già detto è che sicuramente appunto grazie alla mentalità imprenditoriale ha capito come monetizzare la sua fanbase è come crearsi più fonti di reddito partendo da quello che fa quindi è sicuramente tante volte alcune persone hanno detto no è più un influencer è più un artista è più un imprenditore è più questo gran cazzo chi se ne frega di come viene visto dagli altri intanto monetizza e ha più fonti di reddito quindi non ha ragione soltanto su i guadagni che c'ho dai diritti i guadagni che c'ho con l'etichetta i guadagni che c'ho ma si è creato un business grazie alla sua figura di artista e a tutto quello che ha creato intorno alla sua figura di artista in cui va a lo shop ha tantissime fonti di entrata che è una cosa importante perché non sai mai cosa si succede quindi avere più fonti di reddito dalla tua musica da quello che fai ti permette uno di essere più stabile uno di essere più sicuro e di guadagnare di più se ti concentri solo e soltanto sul pubblicare canzoni e sperare di guadagnare da youtube spotify e dai diritti d'autore se sai come funzionano quindi è tutte queste sono cose che si possono imparare che bisogna imparare che noi stiamo divulgando da mesi io spero che questo contenuto ti sia stato utile spero che io avrò preso fedez sapendo che tante persone incuriosite avrebbero visto questo video perché sicuramente è uno degli artisti a cui si può imparare tanto ma lo stesso concetto prendilo con tantissimi artisti di successo quello che noi vogliamo veicolarvi è proprio l'approccio imprenditoriale la mentalità imprenditoriale e guardare agli altri con lo spunto del che cosa stanno facendo di giusto aggiungo un'altra cosa importante chiudiamo il video che lui fa ed è un'altra cosa che la maggior parte degli artisti non fa è l'attenzione alle nuove piattaforme cosa significa? Fedez è su TikTok Fedez è su Twitch perché? perché sono nuove piattaforme che stanno andando e lui le vuole cavalcare perché i nuovi social le nuove piattaforme vanno cavalcate bisogna ragionarci bisogna capire con che contenuto farlo e lui l'ha fatto e anche da questo punto di vista quanti sono quanti sono gli artisti che sono con così tanta presenza su Instagram su YouTube su Twitch su TikTok creano così tanto contenuto sono così tanto in giro a fare anche pubblica relazioni PR sui giornali sanno creare notizia sanno cavalcare i trend e in quella roba lì è un altro fenomeno che si potrebbe fare dieci video solo su come cavalca i trend Fedez quindi è e tu dici grazie al cazzo fa l'influencer il suo lavoro siamo sicuri? perché è una persona che prima fino approva con te anche qua è un imprenditore è un artista ha famiglia ha un'etichetta pensi che ci abbia sempre voglia di fare contenuti pensi che sia facile no si farà un culo come una capanna senza alcuna ombra di dubbio e tante volte l'artista che invece ha tutto il tempo del mondo per scelverlarsi per creare contenuto per cercare di non fa niente si limita a lamentarsi per questo video è tutto spero che tutte queste informazioni ti siano state utili e noi ci vediamo a un prossimo video ciao per questo video è tutto se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al canale unirti alla nostra community trovi il link in descrizione dove siamo ormai più di 2000 artisti che ogni giorno si formano per crescere con la propria musica e qua trovi di fianco a me il video sugli 8 comandamenti che è la base con cui partire a formarsi con noi ciao ciao Grazie a tutti.